ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario im modulla informazioni commerciali titolare camon spa concessionario camon spa confezioni im modulla 60 compresse formulazione orzo fermentato a euro lievito di birra fa scomposizione fatto di calcico prodotti ottenuti dalla trasformazione di erbe 4 per cento di cui castanea sativa 2 per cento citrus paradisi 1 per cento tabbe buia impettiginosa 1 per cento olio di pesce olio di fegato di ipoglossus ipoglossus maltodestrina sali di acidi organici di magnesio acido ostearico lieviti idroliz additivi per chilogrammi di prodotto additivi nutrizati 3 a 300 vitamina c 10.000 mg 3b 603 zinco mg zonali 1350 ossido di zinco monoidrato mg 1674 a 3b 801 additivi tec selenio mg 15 selenito di sodio mg 32,85 e 460 cellulosa microcristallina 180.000 mg non logici e 551 bisilice colloidale 30.000 mg indicazioni mangime complementare per cani e gatti posologia 1 cpr ogni 10 kg di peso vivo fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato